buongiorno bentrovati sul mio canale vi presento i materiali che mi sono stati inviati dal sito perline bijoux allora il progetto questa volta sarà realizzato in due versioni di colore una versione è realizzata nei colori che avevo scelto io e che vi ho già mostrato nel nel video review che ho pubblicato un po di giorni fa vi lascio il link qui sotto e sono miscelati cioè i materiali non vi avevo detto che erano per il progetto in collaborazione ma sono i materiali alcuni dei materiali appunto che vi ho mostrato ulteriormente appunto parlando con con loro mi sono appunto affidata al loro gusto alla loro esperienza e mi hanno inviato un pacco con altri colori e sono quelli che appunto vi mostrerò adesso e subito dopo inizierò a registrare il video tutorial e domani credo domani pubblicheremo sarà online il tutorial sul canale scusatemi ma mi sono appena svegliata prima di andare al lavoro sto cercando di fare questa cosa perché avrei dovuto farla ieri ma non ci sono riuscita e quindi eccoci qua insomma allora vi mostro per prima cosa quella che solitamente si mostra per ultima la catena e quindi già avete capito che si tratta di un ciondolo quindi una catena rolò in acciaio mi piace tantissimo questo tipo di catena perché dà comunque quella sensazione di come come se fosse un cordoncino quella compattezza mi piace davvero tanto 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 veramente bella e quindi appunto nel kit ci sarà la catena poi 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 in questa versione di colori ci saranno le miyuki silver line ed like gold sia le 11 0 che le 15 0 mentre nell'altra versione ci sono le mi mostro solo queste perché non ce l'ho sotto mano tutto il materiale comunque nell'altra versione nella versione ci sono le duragot galvanized silver ok poi aiuto nella versione facciamo così vi mostro solo questa diversione perché altrimenti poi ci confondiamo ci sono i i bicono vitra il medium io di solito avevo sempre utilizzato i riboli in questa colorazione i bicono non li avevo mai presi hanno delle sfumature e delle sfaccettature davvero interessanti molto molto belli ve li consiglio perché si adattano a più tipi di lavorazioni hanno veramente una gamma colore come del resto i riboli però non avevo mai pensato ad utilizzare anche il bicono e abbinati con queste cose che mi sono state date per fare appunto questa versione sono veramente veramente belli la cosa principale è il cabochon a navetta in cristallo e questo è praticamente lo chiamano multicolor ma praticamente è il vitrail medium è bellissimo questi cabochon in cristallo sono qualcosa di eccezionale sono fantastici veramente la versione invece che ho preparato io che ho scelto io a questi questi in blu che sono stratosferici cioè veramente hanno dei riflessi bellissimi in video si vede leggermente più scuro è un blu scuro ma dal vivo ha molta più luce e sono bellissimi quindi la mia versione sarà sui doni del blu e e argento mentre questa versione qui è una versione tutta particolare tutta estiva in questi colori cangianti bellissimi ci saranno le delica e è stato fatto dono di questo colore particolarissimo che ha delle sfumature fantastiche in video non si vedono benissimo le le sfumature forse è così un po' meglio vanno da dal giallo al verde poi è un colore di questi matt setosi a me piace tantissimo lavorarli questi queste colorazioni perché secondo me sono anche un po' più resistenti anche le rocaille mi piacciono molto al tatto nella lavorazione le trovo molto più compatte precise quando si lavora forse è una mia sensazione ditemi se anche per voi è lo stesso però le trovo un po' più resistenti e con una maggiore precisione anche rispetto a ad altre tipologie magari di di colorazioni quindi questi che sono appunto i matt metallic light yellow green quindi da un giallo chiaro a un verde è un matt metallic comunque quindi ha quell'effetto come se fosse appunto un metallo anticato molto molto bello e appunto abbinato con tutto il resto è fantastico e poi ci sarà la nappina che sapete io non sono solita utilizzarle però in questo caso per questo progetto che vi mostrerò nel prossimo video dove appunto andremo a realizzarlo mi è piaciuto veramente tanto utilizzarle adesso la tiro fuori in modo che cerco di metterla un pochino in forma sono molto molto belle e in questo caso appunto un abbinamento molto estivo molto carino con questo giallo mentre appunto quella che ho scelto io è in blu quindi avrete la possibilità di scegliere il kit in due colorazioni e magari anche sceglierli tutti e due perché no e vi lascio quindi con questi materiali io mi metto subito a creare e a registrare il tutorial ci vediamo quindi prestissimissimo sul canale con il tutorial in collaborazione con Perline Bijou troverete i link di questi materiali nell'info box e domani quando pubblicherò il tutorial vi lascerò in questa info box anche il link del tutorial perché magari se vi capita di vederla più in là potrete andare direttamente al tutorial anche da qui grazie come sempre per la stima e l'affetto che mi dimostrate siete veramente diventati tantissimi stiamo raggiungendo i 10.000 iscritti al canale quindi tra poco inizieranno tantissime altre sorprese e regali per voi per festeggiare il tutto buona giornata creativa a tutte e a presto ciao